qui ce n'è uno due anzi fantastica li prende tutti lei eh guardate che funghi non li abbiamo visti prima siamo passati qua non li abbiamo visti e noi siamo passati qui prima quando abbiamo preso quei due e bisogna guardare bene andiamo un po troppo di fretta ma in mezzo al nulla c'è solo prati vuoi che ti faccio il video arrivo aspetta girameli fammeli vedere in mano ce n'è due non avevo visto questo di nascita al gambo un po molle gambo molle quello piccolo quello piccolo che ha molato no gambo un po molle ma ancora bello fantastici stupendi bravissimi ragazzi cool 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 calmore